Sì, grazie Presidente, chiaramente per esprimere il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Ringrazio il consigliere De Primo per aver ricordato domani la nuova inaugurazione di Villa Massimo. Prendo appunto questo spunto per ricordare l'inaugurazione alle ore 10 domani mattina dopo sette anni di chiusura. Questa è una vittoria di questa amministrazione congiuntamente al Municipio II che è una collaborazione profigua che fa vedere che quando si lavora per il bene comune le cose belle si fanno. Perciò è una vittoria importante, siete chiaramente tutti quanti invitati, forze politiche e cittadini qui presenti. Grazie Presidente, ripeto il voto favorevole di questa maggioranza.